Il sogno è quello che ci tiene in vita, soprattutto i sogni ad occhi aperti, che poi si traducono in realtà, in questo tipo di realtà. Da Luisa a Via Roma, dodicesima edizione di Firenze Forever. È un evento soprattutto mediatico che ospita ogni tipo di operatore, blogger, Instagram, Facebook, Snapchat, giornalisti, TV, influencer e testimoniale. Tutto ciò che l'internazionalità e la velocità del web consentono. Siamo la popolazione del mondo, e siamo molto ricordati in un mondo molto ricordato del mondo. Questa meravigliosa dame neben me è Caroline Dauer. È una delle più successi del blogger. Questa meravigliosa dame è stata la popolazione del mondo del mondo in ultimo anno. Una torre di babele mondiale che si ritrova in un linguaggio comune, quello del sogno, titolo di questa edizione. In virtuale e reale si incontrano, nomi che diventano persone e una scenografia unica a Firenze. E questo è il primo appuntamento dell'anno, con la moda che verrà. Questa meravigliosa sono attuali colori e, ovviamente, cristalli, quindi mi piace questo palto. La media print sta staggianti e l'online sta staggianti. Lo sguardo sempre avanti, un summit per discuterne. La comunicazione web ormai è una cosa assolutamente che non si può fare a meno. La città, protagonista con luoghi non scontati, eroi, per caso e per web. Generazioni future, già sedotte dal Made in Italy. A chi mi piace, può scusare le cose, il relato e... Credo che solo con i nuovi sviluppi che stanno esistendo ora, come 3D, realità virtuale, le nuove applicazioni, le cose solo vanno a crescere più. Firenze Forever è comunicazione globale di quella quotidiana e moderna forma di cultura che è la moda. Dall'11 al 13 giugno, nella prossima edizione, non solo web, ma anche voci creative di protagonisti di vari settori, cinema, sport, letteratura, turismo e, naturalmente, buon mangiare.